Nel video di oggi vi sveleremo i retroscena esplosivi che stanno scuotendo il mondo delle celebrità italiane. Chi è davvero coinvolto nel presunto tradimento di Fedez? E quale sarà la risposta di Chiara Ferragni? Prima di addentrarci nei dettagli più scottanti, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sui prossimi video e sulle ultime news. Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più amate e seguite in Italia, stanno attivando una crisi coniugale che ha lasciato i fan senza parole. La tensione è salita alle stelle quando Fedez avrebbe imposto una diffida a Chiara, impedendole di pubblicare foto dei loro figli, Leone e Vittoria, sui social media senza il suo consenso. Le recenti immagini pubblicate da Chiara, che mostrano i bambini solo di spalle, sembrano confermare questa misura drastica. Ma cosa c'è dietro questa rottura? Alcune voci insistenti parlano di un presunto tradimento di Fedez con Paola Di Benedetto, ex partecipante di Ciao Darwin. A confermare i sospetti, le sorelle Ferragni hanno smesso di seguire Paola su Instagram, alimentando ulteriormente le speculazioni. A complicare la situazione, una lite tra Fedez e il cantante Nasca in un locale milanese ha sollevato nuove polemiche. Nasca aveva ironizzato su Instagram, insinuando che Fedez non fosse il vero padre di Leone e Vittoria, commento che ha scatenato un follower a dichiarare di essere lui il vero padre dei bambini. La reazione di Fedez non si è fatta attendere, dando vita a una querel pubblica. La relazione tra Chiara e Fedez sembra essere appesa a un filo, con molte domande ancora senza risposta e dettagli che attendono conferme ufficiali. E voi, cosa ne pensate di questa situazione tra Fedez e Chiara Ferragni? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video sulle ultime notizie.